vuoi un po' d'uva? cos'hai in faccia? oh no! hai mangiato tutto questo cioccolato! ma come hai fatto? ma questi cioccolatini sono molto simili all'uva avvolgerò l'uva nella carta dei cioccolatini tesoro ho qualcosa per te sì! delizioso! oh finalmente! no! grazie! beh, è stata veloce! oh! so cosa fare! sono solo broccoli non la ingannerà così facilmente grazie grazie beh, hai ancora i tuoi broccoli crudi però oh beh almeno fanno bene alla pelle cosa stai pensando Emily? una caramella che sembra una matita intelligente ehi! cosa stai mangiando? oh no! poverina ma almeno puoi disegnare molto meglio è tempo di cereali è tempo di disastri che cosa? ops ti ho lasciato per solo 5 secondi da sola oh beh, idea! è tempo di una collana di cereali tesoro, ti piace? un modo diverso di fare colazione è qui! pericolo! pericolo! vuole essere veloce non mi ha ancora visto non ha visto niente papà? non ho niente vedi? devo sistemare le cose bene oh mamma che paura devi coprire meglio le tue tracce perfetto niente da vedere qui sono un sacchetto di verdure surgelate intelligente! mossa intelligente ne vuoi un po'? vai via se lo dici tu fermati! sono la puliziotta di caramelle devo ispezionarla oh no oh oh niente qui il tuo berretto scoperto vai in camera ora sì signora sì signora oh mamma ho appena comprato questi fiori agente sei libera di andare grazie Jacob non ti preoccupare sono riuscita a intruforare delle caramelle è tempo di festa ora Gina sta prendendo di nascosto un po' di coca cola ma ops ti hanno sentito cosa hai fatto? ti sto guardando non riesce proprio a prendersi una pausa cosa succede se la nascondessi dietro dei pastelli? e... ora una cannuccia hai la gioia scritta sul tuo viso insieme a un paio di altre cose però oh no è pronto arrivo dove sei stata? e beh qui devi fare un bagno su entra no entra no beh allora abbiamo un problema è molto più divertente fare il bagno quando sembra una vacanza wow bella e pulita ora possiamo mangiare i tuoi spaghetti preferiti con le polpette devi mangiare le carote tesoro no dai per favore no dai beh è inutile che ne dici di un piccolo trucchetto taglia le carote a strisce e poi mettile nella confezione delle patatine fritte grazie grazie non se ne è accorta ancora che ne dici di un po' di cioccolato i bambini hanno delle super orecchie beh hai vinto questa volta la lattuga ci può aiutare perfetto ottimo nascondiglio dov'è il cioccolato? non ce n'è è tutto tuo ora non ho niente con cui giocare ci ho fatto un regalo sì è un po' bit è molto divertente per circa un minuto oh no come dici di questo? sì niente batte l'originale Emily vuole dare solo il meglio alla sua sorellina ma lei odia i succhi forse se cambiassi la confezione potrebbe funzionare versa il succo in una lattina di Fanta ecco che ne dici di questa? sì è la mia preferita deliziosa chissà quando si renderà conto è tempo di lavarsi i denti Emily si sta preparando per iniziare una nuova giornata ma il suo nipotino non sa come si lavano i denti aspetta un attimo prendi una vecchia scatola di pizza tagliala a forma di ovale incollaci sopra dei tappi di bottiglia bianchi come questo aggiunge una lingua e delle palline nere brutte e sporche guarda è così che devi fare fammi provare bravissimo ora ha capito come si lavano i denti Megan si sta preparando per una passeggiata ma cos'è questo? tesoro hai sbagliato a mettere le scarpe le hai invertite prendi un adesivo e taglialo a metà incollalo all'interno della scarpa ecco fatto insieme compongono una figura ora saprai quale devi mettere al piede giusto grazie ora andiamo a fare una passeggiata qualcosa non va, Emily? giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra oh mamma qualcuno ha troppa energia ed ecco che arriva l'uomo di casa come va? ehi dammela che cosa? perché? non sei più così virile, eh? sediti tesoro ecco, stai qui ecco che arriva l'aereo wow, le piacciono i broccoli ehi tu, vestiti vieni piccolino è ora di pranzo ecco i tuoi spaghetti preferiti oh no oh no non gli piace molto lavarsi le mani metti un foglio con due mani disegnate sotto una ciotola trasparente versa dell'acqua all'interno metti un po' di pepe ora, metti un dito con un po' di sapone e vedrai se lo fai? guarda cosa succede a tutta la sporcizza spaventosa wow ora laviamoci le mani per davvero ok, va bene guardate, tutto lo sporco va via ora possiamo mangiare il mio cioccolato vado a sistemare il cappotto e poi sarai mio oh no, piccola ladruncola dove è andato? vieni qui incolla un gancio da cucina alla porta del frigo e di lato ora collegali con degli elastici ecco fatto voglio il cioccolato non oggi piccola ahah, eccolo qui proprio dove l'ho lasciato potresti condividere però, papà ehi follower di Kaboom Zoom è stato molto divertente, vero? se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al nostro canale Kaboom per altre storie incredibili come questa restate sintonizzati e a presto